Ma voi che dite? Continuiamo con gli appuntamenti di Phil the 90's, del menù di Phil the 90's? Sì, io direi di sì a tutta musica perché vogliamo ripartire con la musica, quella che pompa, quella che ci fa star bene, quella che ci colora perché riprende lo spazio dedicato ai DJ producer e abbiamo qui al telefono con noi un DJ che è già passato qui in Phil the 90's ma che ripassiamo molto ma molto volentieri perché il pezzo è veramente una bomba Lui si chiama Vincent Martini, ciao Vincent! Ciao Roby, ciao a tutti! Ricordiamo, Vincent Martini, parlaci un attimo di te, dove sei, come nasci, nasci come tutte le persone normale ma come nasci come DJ, una storia dai, raccontaci in breve Sì, nasce questa storia artistica nel 2005-2006, poi si è incrementata negli anni con vari progetti e portati a termine insomma, semplificata al massimo Guarda, sei proprio, hai fatto un taglio cut, copy and paste, come si fa quando si lavora al computer No, va bene, ma Vincent di dov'è, dove vivi e come ti scopri DJ e produttore? Vive Napoli, provincia di Napoli e produttore di progetti che nascono così, idee prese al momento e realizzate col tempo poi in progetti resi commerciali per la pista insomma Quando cerchi di produrre qualcosa e ti devi ispirare a un suono, com'è che costruisci il suono? Utilizzi un software particolare o magari, non so, ascoltando i più grandi DJ che tutti conosciamo, adesso non facciamo i nomi, non so, David Getta, Bob Sinclair, DJ Tiesto, Scooter o quanti altri, no? Che ce ne sono Ascolti anche i suoni degli altri, quindi prendi ispirazione per trovare un suono che possa rendere più vendibile il tuo prodotto Beh certo, bisogna trovare quella sonorità che sia nuova, sia stravagante, sia la novità nel mercato Però purtroppo Vincent Martini ha l'abitudine di ascoltare troppa musica anni 80, anni 90 e quindi poi cerca di rendere le sonorità attuali, cerca di mixarle con quelle che sono le hit del passato e ricreare poi qualcosa di nuovo in questi nuovi suoni commerciali E un consiglio che vuoi dare tu alle nuove leve? Perché sappiamo tutti che ormai di DJ ce ne sono a Iosa, no? E c'è gente che si definisce DJ solo perché schiaccia un tasto, no? Un consiglio che vuoi dare da professionista? Un consiglio che do a tutti è quello di non sentirsi mai un DJ nella massa, essere sempre se stessi e soprattutto credere sempre di farlo bene e farlo con la propria personalità Adesso noi lasciamo te essere te stesso perché presenti il tuo ultimo successo, ti lascio un microfono, fai il DJ, fai lo speaker di Feel the 90's, dai, tutto lo spazio che vuoi Vincent Martini featuring Aileen presentano Passion, ciao Sintetico, è diretto proprio, ok, noi ringraziamo Vincent Martini, è stato un piacere averti qua anche se per poco e alla prossima uscita noi siamo sempre qua, Vincent, quando vuoi Altrettanto, ciao Ciao, ciao Ciao